Il dormitorio cremasco voluto 12 anni fa dalla Diocesi di Crema, guidata dall'allora vescovo Oscar Cantoni ora cardinale, ha chiuso i battenti, come avviene ogni anno, per il periodo primaverile estivo e riaprirà ad ottobre in una nuova sede riqualificata. L'attuale sede di Via Civerchi, che può ospitare una ventina di persone al giorno, generalmente uomini, metà stranieri e metà italiani, senza lavoro e senza fissa dimora, riunificherà tutti gli uffici della Diocesi nel centro pastorale diocesano. Un trasferimento, quello nell'ex canonica di Borgo San Pietro, a poche centinaia di metri, sempre nel cuore della città, che saprà tuttavia rispondere, come ha avuto modo di spiegare il direttore della Caritas Claudio Daggetti, in maniera più adeguata ai bisogni di chi vive sulla strada e che al rifugio può trovare un tetto sotto il quale ripararsi, con colazione, una doccia calda e da qualche anno anche con il pranzo e la mensa. La finalità del rifugio, infatti, non è solo quella di offrire assistenza ai poveri, ma di creare una relazione con loro, attivare una presa in carico che li possa portare alla fuoriuscita dallo stato di bisogno. La struttura di via Borgo San Pietro, sottolinea Daggetti, ben si presta alla tipologia di servizi che si intende insediare, permetterà, pur mantenendo invariato il numero di posti letto, di avere spazi meno assembrati. Si potranno suddividere in cinque ampie stanze rispetto alle attuali tre, oltre a servizi igienici più adeguati. Il progetto prevede al piano terra gli spazi della mensa e del centro diurno per persone senza fissa dimora. Al piano superiore troverà invece casa all'ormai storico dormitorio Rifugio San Martino. Il costo della riqualificazione dell'edificio dell'ex canonica di Borgo San Pietro è di circa 300.000 euro, tutte a carico della diocesi, che ha infatti promosso insieme a Caritas una raccolta fondi finalizzata alla copertura di questo investimento, contando sul volto solidale che la città ha sempre dimostrato.